So che non mi vuoi qui, ma avevano i muffin alla banana di sotto. Mi è tornato in mente il nostro viaggio a St. Pete. Ricordi? Tutte le mattine andavamo a comprarli in quella panetteria. Me lo ricordo. Ti facevi durante quel viaggio? Non quando eravamo insieme. Aspettavo sempre che tu andassi a dormire. Puoi restare. Se vuoi. Ok. Non è male. Che succede? È il trattamento contro l'alcol. Mi sbagliavo. L'aneurisma si deve essere rotto.